La mia intenzione è anche per un fatto così. La mia intenzione è anche per tutti voi chiudere il cantiere, lascerò l'avviso ai miei regami di telefonici, il tempo tecnico la prossima settimana alle lunedì e martedì ci potremo organizzare e vediamo un attimo le vostre esigenze, i macchinari eccetera eccetera. La mia intenzione dovrà dimostrare che i macchinari sono i proprietari, poi per quanto riguarda i vostri soldi dovrete fare l'istanza di insolvenzione al passivo ma questo menso che voi lo sappiate. La sentenza è pubblica, potete richiederla in tribunale comunque, è l'insolvenza, l'incapacità di far fronte ai debiti della società. E' fallita pertanto, ha 210 milioni di passivo, non porta la sentenza. 210 milioni. Sì, tanto, non vedete, ci fermate, una delegazione come volete voi. Va bene, grazie. Va bene? Ok. Sì.